Buongiorno e bentornati in una nuova lettura flash. Vediamo oggi che messaggi ci sono da parte degli unicorni e dell'angel therapy per voi. Vi chiedo di lasciarmi un commento facendomi sapere quale carta avete scelto qui sotto e se volete vedere altri video e letture potete passare dal mio canale youtube il link in bio. Allora oggi abbiamo il mazzo numero 1 con il fiore bianco e il mazzo numero 2 con la farfalla bianca. Se vi serve più tempo mettete in pausa il video intanto vi chiedo un mi piace e seguitemi per non perdere altre letture. Per il mazzo 1 il fiore abbiamo canto e danza esprimi te stesso e risveglia i tuoi sensi psichici con il magico potere della musica e del movimento. Ricordatevi che il canto e la danza innalzano l'anima. Invece gli unicorni vi dicono amore la risposta che cerchi è l'amore. Amore anche per se stessi come ballare e divertirsi anche se siete da soli o ascoltare musica o meditare con la musica. Per il mazzo 2 con la farfalla invece abbiamo caspita sono collegate tra di loro guardate angelo terreno sei un operatore di luce giunto sulla terra per insegnare l'amore. Torna l'amore come anche nella prima lettura tra l'altro il primo mazzo e qui vi confermano gli unicorni luce quindi angelo terreno portate vedete la luce sulla terra. Guarda la luce che splende dentro di te e negli altri è il compito che hanno gli angeli terreni su questa terra alla fine innalzare le vibrazioni e portare amore vibrazioni e energia d'amore a tutta la terra. Se non sapete chi sono e cosa sono gli angeli terreni trovate il video sul mio canale youtube linkinbio. Fatemi sapere quale avete scelto e se vi ci ritrovate noi ci vediamo in una prossima lettura. A presto!